E' in atto ormai da due giorni la protesta dei sette impiegati della Biblioteca Civica di Cosenza dinanzi l'ingresso della struttura, i quali lamentano la grave situazione di stallo in cui versa la biblioteca ormai da circa 30 anni. Un inquadramento non definito per loro. Questa biblioteca, che si chiama Civica, in realtà non è né comunale né provinciale, e non è nemmeno regionale o statale. È un ente morale, quindi con una natura giuridica di tipo privatistico e dove sta l'intervento del Comune della Provincia, che ci finanzi nel 50%, sin da quando è stata fondata nel 1917 questo Statuto di Ente Morale, e poi nominano due rappresentanti in seno a un Consiglio d'amministrazione, che è presieduto dal Presidente dell'Accademia Costantina. In sostanza, ecco, dove sta il vero problema? Diciamo, fino al 2005, quando poi è stata fatta un'integrazione dello Statuto, senza l'abolizione del precedente, noi dipendenti avevamo visto di buon occhio questo nuovo Statuto, che era stato fatto, perché pensavamo che ci fosse stato un maggior impegno da parte di Comune e Provincia, che si erano impegnati ovviamente a finanziarla al 50%, mentre prima era una specie di obolo per la biblioteca, proprio per la natura privata di cui parlavo. E pensavamo che dopo 25 anni di sofferenze, perché queste sofferenze noi le abbiamo almeno dagli anni 70, diciamo da quando questo personale e colleghi che adesso sono andati in pensione, perché hanno avuto le stesse sofferenze nostre, si sono battuti sempre per portare a casa le poche lire che ci dà la biblioteca. Un senso di abbandono, quello che percepiscono da parte del CDA della biblioteca, che a loro dire non ha ancora risolto le numerose carenze che si registrano all'interno della struttura. I dipendenti, come succede oramai da alcuni anni, come giustamente tu dicevi, sono in una situazione di incertezza per il futuro, quindi questa è la prima cosa che loro chiedono, gli venga data una risposta per una tranquillità loro e delle proprie famiglie, e poi chiedono come giusto diritto per il loro lavoro, la corrispondizione puntuale degli stipendi. Chiedono il pagamento puntuale degli stipendi di essere assorbiti dagli enti locali per uscire dalle impassi in cui si trovano e divenuto ormai insopportabile. Non è da escludere, anche se è una cosa detta anche sotto forma di propagazione da parte del sindacato, però non è da escludere anche il ricorso ad un'anticipazione di cassa per garantire queste puntualità.